Il Comitato Pro Tribunale scrive oggi una nota per sancire di prendere atto dell'esito negativo, dei tentativi falliti ad assegnare al Palazzo di Giustizia di Modica funzioni giudiziarie che assicurerebbero maggiore efficienza e risparmi di spesa. Non è stata sin qui calendarizzata infatti la discussione della mozione a firma di 30 senatori del PD con la quale si vorrebbe impegnare il governo all'istituzione a Modica di una sezione staccata del Tribunale di Ragusa, né del disegno di legge a firma dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che dovrebbe accogliere un emendamento di analogo contenuto. Il Comitato punta il dito contro il disimpiego di chi non ha dedicato un solo momento del suo ruolo in favore della comunità del territorio che pure rappresenta, così come riportato oggi nella nota. Denuncia altresì alla pubblica opinione la insensibilità del Presidente della Regione, il quale in presenza di strumenti legislativi ed impegni ripetutamente assunti non è inteso promuovere con il Ministero della Giustizia la Convenzione che consentirebbe l'immediato utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica. Il Comitato, in attesa che la consulta si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme che hanno sancito la soppressione del Tribunale di Modica e il suo accorpamento al Tribunale di Ragusa, ha deciso intanto di portare avanti le iniziative intraprese e tra questa quella di inoltrare un ulteriore formale esposto alle autorità competenti per conoscere le ragioni per le quali siano rimaste senza risposta le passate comunicazioni inerenti alla precarietà della struttura giudiziaria di Ragusa. Il Comitato conclude sottolineando come sia determinato, sino a quando un solo spiraglio consentirà di confidare di poter cancellare tale intollerabile giustizia ad esprimere ogni suo possibile impegno.